Torna l'Alghedo Scala Piccada, un momento importante per la città. Un momento importantissimo, è la cinquantasesima edizione dal 1955, la crono scalata più antica della Sardegna certamente e tra quelle più antiche d'Italia. È una prova importante non soltanto per i contenuti sportivi che ci sono e ci saranno, anche per il numero di adesioni importanti che sono pervenute, ma soprattutto perché diventa un momento importante per l'allungamento della stagione turistica. Da quest'anno, grazie anche al nuovo corso dell'Automobile Club di Sassari, quindi alla presidenza di Giulio Pes, una manifestazione che si inserisce nella città con un parco macchine, un parco assistenza in via Giovanni XXIII, in via della Resistenza, e con una serie di eventi collaterali che porteranno anche nella riviera del Corallo tanti ospiti, per cui è una festa, una festa di sport, una festa per la città di Alghero e credo che abbinare questo nome così prestigioso, storico della Scala Piccada alla città di Alghero sia un elemento per l'intera Sardegna di una grande importanza. 1955 è stata la prima gara, come sapete è riservata solo alle donne e già oggi nella conferenza stampa vedremo anche alcuni momenti importanti che collegheranno quella data all'attualità, alla giornata di oggi. Giulio Pes, presidente della Cisassari, un momento importante per voi ma anche per la città? Sì, assolutamente sì. Noi siamo molto molto contenti e molto orgogliosi di essere riusciti a rimettere in piedi una manifestazione che ha fatto la storia dell'automobilismo sardo e non solo. Abbiamo lavorato duro, abbiamo messo in campo tutte le potenzialità dell'Automobile Club di Sassari, tutti i commissari di percorso, abbiamo oltre 120 commissari di percorso impegnati nei giorni di gara, abbiamo oltre 50 tecnici che ruotano attorno all'organizzazione, quindi una macchina che muove circa 400 persone. I piloti che hanno aderito sono tanti perché abbiamo oltre 100 equipaggi, quindi considerato che ogni pilota porta in media tre persone, si crea un movimento sulla città con una ricaduta economica importante, soprattutto in un mese di spalla come il mese di ottobre. Quindi siamo convinti e speriamo che il tempo ci aiuti, visto che le premesse sono buone, visto che questa estate continua a seguirci. Le novità sul percorso sono l'allungamento, abbiamo allungato il percorso di un chilometro e tre e abbiamo portato il box all'interno, il paddock all'interno della città. Questo permetterà a tutti gli appassionati, a tutti gli sportivi e non solo di visionare le auto, ma abbiamo creato anche, creeremo degli eventi collaterali che permettano di far avvicinare sempre alle auto anche le persone che magari vengono per vedere un gruppo folk piuttosto che l'area espositiva. Lanciamo un messaggio, competenza e passione, ma sempre sul tema della sicurezza, occhi aperti. Assolutamente sì, abbiamo preso il direttore di gara, abbiamo scritturato il direttore di gara, uno dei più importanti in Italia, per garantirci la massima efficienza e la massima sicurezza. Quindi per noi è fondamentale innanzitutto garantire la sicurezza dei piloti, quindi facciamo tutto quello che è nelle regole e nelle norme e anche di più. Posizioneremo sul percorso 50 rotoballe, questo per intenderci, negli anni scorsi non è mai stata posizionata una rotoballa. Quindi per dire che siamo molto attenti e soprattutto l'Automobile Club, che è la federazione degli automobilisti, deve garantire per prima la sicurezza sia agli automobilisti che ai piloti. Dottore Bello, presidente del team Alghero Corse, anche quest'anno il team protagonista nell'organizzazione di gare importanti. Beh, la gara di Scala Piccada è una gara sicuramente importantissima e l'ACI di Sassari non poteva dimenticare questo evento perché è assolutamente da riproporre e da rimettere sicuramente in auge. Il team che si propone in affiancamento all'organizzazione, l'importanza di avere persone appassionate ma allo stesso tempo non improvvisate in situazioni così delicate? Beh sì, il team Alghero Corse è in affiancamento per questa gara, in supporto per quanto riguarda i commissari di percorso, sono una trentina di commissari per tutto il percorso della Scala Piccada e tutto quello che l'ACI di Sassari ha bisogno e noi siamo pronti sempre per quanto riguarda appunto la parte tecnica sportiva. Cosa ci possiamo aspettare da questa gara? Quanto è importante per Alghero? Beh, per Alghero è importantissimo perché la Scala Piccada, la regina delle salite in Sardegna, senza togliere niente a nessuna gara in Sardegna, che purtroppo stanno diciamo scemando per quanto riguarda appunto le manifestazioni sportive. Questo sempre dipende appunto dal periodo che stiamo vivendo. Però per Alghero è importantissima per la visibilità che ha, per quanto riguarda appunto Alghero stessa. Ricordiamoci il Mondiale WRC, ricordiamoci la Scala Piccada, ricordiamoci lo slalom di Alghero Scala Piccada, che è sempre nostro, con la collaborazione sempre dell'ACI di Sassari. E tutte le gare che riusciamo quest'anno, c'è una novità per quanto riguarda Alghero, che stiamo organizzando per fine novembre prossimo, il Challenge sul Piazzale della Pace. Vedremo di portare avanti il nostro operato, sempre per l'amore di questo sport, per noi passione e nient'altro.